Lugine Prede, Young Rider, Marco Sennig. Il mio sogno del cassetto è continuare in questo sport. Giacomo Casley, Junior, a Buenos Aires e le Olimpiadi Giovanili nel 2018 a Medellin. Ignazio Hubold, Young Rider, Young Children, di credere nei propri sogni perché nella vita bisogna essere forti, bisogna credere nei propri sogni. Neri Pieraccini, Young Rider, quando vincemmo i campionati europei insieme a Ignazio Huboldi, Giacomo Casadei e Francesco Corredi. Brava Passo, una carezza! Martina Schirinzi, Children. Il momento più divertente di questo ritiro è stato quando abbiamo fatto i gavettoni qua, che è stato bellissimo, a parte per il caldo, che diciamo ci stava appunto bagnarci, però comunque è stato bello anche lo spirito di gruppo e di divertimento. Morgana Santini, Children. Nient'altro, io a montare, è il mio sport, è la mia vita e per tutta la mia vita spero di montare. Gaia Moretti, Junior, la mia perché è unica. Sofia Manzetti, Junior. La vittoria della Coppa delle Nazioni dell'Oxio di Gorla con una squadra molto competitiva e di amici. Giulia Mattioli, Junior. L'equitazione è sicuramente la mia passione più grande e occupa la maggior parte del mio tempo, però mi piace tantissimo anche dedicarmi al disegno e all'arte in generale. Gretale Pratti, Children. Il mio più bel ricordo è stato quando ho fatto doppio zero in Coppa Lamprethausen perché è stata una bellissima esperienza emozionante. Alessandra Franchi, Junior. Sì, mio cugino Guido Franchi perché è molto bravo e si impegna nel suo sport. Sì. Si beva sbirotto. Children. È banale dirlo ma è il cavallo perché secondo me è l'animale più bello del mondo. Diletta Fizianti. Junior. Quando lavoriamo in campo la mattina tutti insieme. Sì. Martina Simoni. Junior. Quando volevo fare uno scherzo al team Young Rider con il tubo dell'acqua e ho bagnato completamente il Tecno federale Stefano Scaccavarozzi. Giallo Capilovano. Young Rider. Spruce Middle, Canada perché è uno dei più grossi e fa parte del Rolls in Grand Slam. Sì. Calma. Sì. Guido Franchi. Young Rider. Questo è il mio ultimo anno quindi spero che il più bel ricordo debba ancora arrivare. Sì. Una bella ragazzata. Loris Lomuto. Children. Luigi del Prete perché monta bene ed è molto simpatico. Valerio Chilavi. Children. Perché noi children abbiamo la possibilità di crescere tutti insieme. Camilla Bassan. Children. Sono molto amica con Martina Schirinzi, Maria Vittoria Padovan e Morgana Santini e mi piace molto allenarmi insieme a loro. Martina Giordano. E a Rider. E mi hanno appena fatto un gavettone. Maria Vittoria Padovan. Children. Siamo tutte molto amiche e abbiamo legato molto. In particolare con le ragazze Children sento di aver instaurato un rapporto molto bello perché dormiamo in una casetta tutte insieme in questi tre giorni e le Coppe delle Nazioni ci hanno aiutato a rendere lo spirito di squadra molto più alto. Francesca Maffaes. e Junior. Il mio sogno nel cassetto è poter ritornare in un campo come quello di Piazza di Siena dove ho appunto avuto la fortuna di poter partecipare grazie appunto alla Coppa delle Regioni l'anno scorso con la Lombardia e spero di ritornarci con l'Italia. Siamo al... Siamo qua al ritiro giovanile per i campionati europei. No, aspetta che ho iniziato. round 2 I though dell'Italia Siamo alla bene può essere adesso Grazie.